all'attività ordinaria della Regione Campania. Una prima domanda a volo. Secondo voi per quale motivo abbiamo fissato, ha fissato il Governo nazionale la data del 18 di cui stiamo parlando tutti quanti? Il 18, il 18, il 18 si riapre. Perché il 18? Perché non il 10, il 20? Perché ci è stato detto noi cominciamo ad aprire le attività economiche il 4 maggio, i tempi di incubazione del virus sono di 14 giorni, quindi aspettiamo fino al 18 per vedere se la riapertura del 4 maggio determina nuovi focolai di contagio. Era un ragionamento semplice, razionale, comprensibile. Bene, questa data del 18 e il suo significato sono completamente scomparsi. Ormai si sta ragionando in Italia come se l'epidemia non esistesse più. Cioè quello che credo di dover registrare è che c'è ormai un crollo generale, psicologico, politico, che va dalle istituzioni ai singoli cittadini. C'è ormai un crollo totale. Forse era inevitabile dopo due mesi di ciusura. Forse no. Forse gli elementi di confusione hanno continuato a far crescere il disagio. Forse tutta una serie di iniziative hanno contribuito a far scomparire dall'orizzonte la preoccupazione del contagio. Sta di fatto che ad oggi noi abbiamo un quadro estremamente preoccupante, che è la mancanza ormai generale di controllo in tutta Italia. Abbiamo deciso in alcune regioni di avere l'uso della mascherina come atto obbligatorio. Assolutamente necessario, perché se vogliamo avere un minimo di tranquillità di base, nel momento in cui riapriamo le attività economiche, dobbiamo avere perlomeno l'uso generalizzato delle mascherine, della distanza fra le persone e del lavaggio delle mani. Piccolo sacrificio, ma assolutamente indispensabile. La verità, se vogliamo dircela, è che ormai in Italia non controlla più niente, nessuno. Siamo al crollo psicologico e politico. Dunque tutto il lavoro di questi giorni, dei vari comitati, controcomitati, sottocomitati, è approdato ad una conclusione semplice, che è quella che è riassunta nella parola d'ordine che utilizzava Totò in un film famoso, quando affacciandosi alla finestra di un'ex casa chiusa, diceva a chi stava sotto, arrangiatevi. Ecco, questa è la sintesi del lavoro scientifico e di elaborazione dei mille comitati che abbiamo nominato. Arrangiatevi, si salvi, chi può. Questa è la mia sensazione, a questo siamo arrivati. Allora, noi cercheremo nella Regione Campania di seguire, nonostante tutto, la nostra linea. La nostra linea è semplice, riaprire tutto, ma riaprire per sempre. Cioè non fare finta di riaprire ed essere costretti dopo una settimana a richiudere perché magari riesplode il contagio. Cercheremo di mantenere fino in fondo questa nostra linea. Riaprire tutto, ma riaprire davvero. Noi dobbiamo fare ancora alcune verifiche, noi le faremo. Cercheremo di capire dopo il 18 che cosa è successo. Non abbiamo scherzato, se no non si capisce perché non abbiamo riaperto tutto il 4 maggio anziché il 18. Abbiamo detto che dovevamo verificare dopo due settimane in Campania. Lo verificheremo. Faremo una verifica in più. Sono arrivati in Campania dal 4 maggio ad oggi, dal nord, quasi 25.000 persone. Quasi 2.000 persone sono in isolamento domiciliare. Non sappiamo ancora quale sarà l'evoluzione dal punto di vista del contagio. Noi faremo un controllo attento per cercare, per quanto è umanamente possibile, di garantire ai nostri concittadini le massime condizioni di serenità. E quindi manterremo l'impedimento a entrare in Campania da parte di regioni del nord, ma anche da parte di altre regioni. Abbiamo detto che almeno per questo mese non si può entrare in Campania se non per motivi di lavoro o di salute. Chi va alla ricerca degli affetti stabili e dei rapporti con gli amici avrà la bontà di aspettare un altro mese, altri 20 giorni e di non darci fastidio. Quindi le misure di controllo ai caselli autostradali, alle ferrovie, agli imbarchi dei traghetti, alle stazioni ferroviarie a Capovichino rimarranno in vigore per un altro mese, fino almeno a fine maggio, per tentare per quanto possibile di tutelare il nostro territorio e la nostra comunità. Quando il governo dice che lasceremo più margini di decisione alle regioni, più flessibilità, questa è una stupidaggine. Perché se non blocchiamo la mobilità fra regione e regione è chiaro che alla fine il contagio rischia di esplodere in tutta Italia. Noi manterremo questo vincolo per la Campania almeno per tutto il mese di maggio. Poi vedremo. Allora, come è del tutto evidente, la fase che abbiamo di fronte è la fase più difficile. Perché nella prima fase, la fase 1, chiudere tutto era una grande sofferenza per le famiglie e per le imprese, ma era una decisione semplice da prendere. La fase 2 è molto più complicata perché abbiamo mille interessi in campo da governare, da farlo in maniera non demagogica se è possibile, senza fare ammuina. In questo periodo abbiamo avuto un'inversione di ruoli. L'ammuina la fanno al nord, il rigore lo teniamo al sud in larga misura e comunque in Campania. Sembra incredibile, ma è così. Allora, è la fase più difficile. Vediamo dal punto di vista della sanità che cosa significa la fase 2 per la Campania e che cosa significa dal punto di vista economico-sociale, la fase 2. La fase 2 in Campania significa questo per noi. Noi abbiamo oggi una situazione sostanzialmente sotto controllo. Grazie a Dio. Abbiamo una situazione del contagio che 13 maggio 9 positivi, 14 maggio 15 positivi. Diciamo che dal primo maggio abbiamo sostanzialmente un'oscillazione fra 9 positivi e 20 positivi, con un livello di tamponi fatti che è diventato davvero molto molto importante. Siamo a 131.000 tamponi. Questa storia dei tamponi mi consente di rifare una precisazione che ci porta a dire che oggi la regione Campania è la regione più efficiente d'Italia. Sapete quanti tamponi sono stati mandati da Consip, da Roma, alla regione Campania? Voi sapete che la regione Campania è già la regione d'Italia che riceve meno soldi di tutte le regioni nel riparto del Fondo Sanitario Nazionale. Lo ricordo sempre in maniera tale che ci capiamo bene quando parliamo di nord e di sud. Non la demagogia che non ci interessa, ma i numeri che parlano chiaro. La regione Campania riceve ogni anno, pro capite per ogni cittadino, 45 euro in meno rispetto al Veneto, 40 euro in meno rispetto alla Lombardia, 60 euro in meno rispetto all'Emilia Romagna, 30 euro in meno rispetto al Lazio. La regione Campania è la regione più penalizzata d'Italia, cioè la regione che viene depredata ogni anno di 350 milioni di euro. Lo Stato italiano dovrebbe vergognarsi e rispetto a questo dato indegno di un paese civile non ha fatto niente, nessuna coalizione politica. Centrodestra, centrosinistra, c'è un blocco di interessi nordista che ha prevalso su ogni regola di civiltà e di correttezza. A questo dato di penalizzazione sul riparto delle risorse si è aggiunto anche nel periodo dell'epidemia, per l'ennesima volta, una penalizzazione della regione Campania. La regione Campania è la regione che ha ricevuto meno tamponi di tutte le regioni d'Italia. Alla regione Campania è stato trasferito un tampone ogni 50 abitanti, al Veneto un tampone ogni 16 abitanti, quattro volte di più. Piemonte un tampone ogni 19 abitanti, Lombardia ogni 21 abitanti, Emilia ogni 22, Lazio ogni 25, cioè nella migliore delle ipotesi alla Campania hanno dato la metà dei tamponi di altre regioni e rispetto al Veneto un terzo o un quarto dei tamponi che hanno dato in altre parti d'Italia. Per quanto riguarda le mascherine i nostri concittadini ricordano che un mese fa ho dovuto fare il pazzo perché non arrivavano neanche le P2 e le P3, cioè le mascherine che servivano per il 118 per andare a prendere e curare gli ammalati. Bene, anche per le mascherine, i dispositivi di protezione. La Campania ha ricevuto un terzo di quello che è stato mandato ad altre parti d'Italia. Vi ho voluto dare questi dati per dire che davvero abbiamo fatto in Campania un miracolo. Possiamo camminare a testa alta e possiamo dire senza tema di smentita che nonostante queste condizioni di partenza abbiamo dimostrato di essere la regione più efficiente d'Italia perché abbiamo il numero di morti, di decessi più basso d'Italia fra le grandi regioni in relazione alla popolazione residente. E abbiamo anche gli ospedali più sicuri d'Italia in questo momento, questo lo dico ai nostri concittadini. Quindi se avete problemi di cura rivolgetevi ai nostri ospedali, non andate in giro per l'Italia, almeno qui non vi contagiate di sicuro. Lo dico anche perché, come sapete, nella nostra regione abbiamo una percentuale di imbecilli che dura a morire. Vogliamo che almeno tutti i nostri concittadini siano consapevoli dello sforzo immane che abbiamo fatto e siano anche orgogliosi di quello che abbiamo prodotto. La situazione epidemiologica è sotto controllo. Ad Ariano Irpino faremo questo fine settimana il tampone sierologico a tutta la popolazione di Ariano Irpino in tre giorni. Per le terapie intensive stiamo puntando ad avere 800 posti letto di terapia intensiva. Anche qui c'è qualche imbecille in Campania che ha fatto questa osservazione ma abbiamo realizzato posti di terapia intensiva ma non sono occupati. Chiediamo scusa al virus se non gli abbiamo fatto compagnia. Non sono occupati ma perché i posti di terapia intensiva devono essere occupati al 100%. Ringraziamo il Padre Eterno se abbiamo i posti realizzati e non occupati da malati ma cose dell'altro mondo. Cioè siamo di fronte alla imbecillità totale. Continueremo a realizzare posti letto di terapia intensiva per stare tranquilli per l'autunno quando avremo l'epidemia influenzale e quando avremo prevedibilmente un ritorno di epidemia covid. E quindi stiamo realizzando altre strutture. Siamo stati a Maddaloni, a Caserta, al Sant'Anna altri 24 posti di terapia intensiva, Bosco tre case, manteniamo tutti i programmi di investimento che abbiamo posto in essere. Vanno avanti i lavori per la progettazione per il nuovo ospedale Ruggi d'Aragona a Salerno, per il nuovo ospedale della Costiera Sorrentina, poi per il nuovo ospedale a Giuliano e così via. Continueremo nel nostro programma nonostante i mesi drammatici che abbiamo avuto alle nostre spalle e che abbiamo affrontato in maniera francamente straordinaria grazie al contributo di migliaia e migliaia di operatori sanitari che ringrazio di tutto cuore. Abbiamo completato qualche altro ospedale, voglio fare un riferimento all'ospedale di Agropoli dove c'è sempre qualche imbecille che dimentica che quell'ospedale era stato chiuso con le catene. Ho fatto vedere un'altra trasmissione le immagini delle porte chiuse con le catene. Noi lo abbiamo riaperto, abbiamo fatto lavori per avere un ospedale covid, abbiamo attivato la rianimazione, dal mese di giugno riapre l'ospedale, riapre il pronto soccorso, abbiamo realizzato la rianimazione, cioè non è un pronto soccorso da DEA di secondo livello ma è un pronto soccorso con la rianimazione, avremo soccorsi di radiologia 24 ore su 24, i laboratori aperti, la possibilità di fare week surgery, di ricoveri per una settimana, abbiamo i posti letto necessari anche perché auspicabilmente nel periodo estivo avremo un raddoppio della popolazione nei comuni costieri. Abbiamo ripreso l'attività ordinaria con prestazioni anche di eccellenza. All'ospedale del mare il reparto di Otorino la ringoiatria diretto dal professore Tortoriello ha continuato a derogare prestazioni di eccellenza, a curare pazienti che venivano da altre parti d'Italia, a Ruggi d'Aragona il reparto di ortopedia anche qui prestazioni di eccellenza e così via un po' in tutti gli ospedali. Abbiamo aperto il discorso del Policlinico di Caserta, abbiamo parlato con il rettore della Vambitelli, se entro il mese di maggio non si risolve il contenzioso la regione nominerà un commissario perché questo grande ospedale, questo Policlinico non può rimanere appeso a metà. Dobbiamo completare il Policlinico di Caserta anche perché la regione che non c'entra niente con l'appalto e la gestione ci ha rimesso già altri 50 milioni di euro per l'acquisto delle tecnologie. Se dobbiamo impegnare soldi tanto vale che ci impegniamo fino in fondo e nominiamo un commissario perché questo Policlinico si concluda definitivamente. Per i tamponi vi ho detto come siamo stati combinati in questo mese, quindi c'è stato il mercato nero dei tamponi. Abbiamo oggi un livello buono di lavorazione dei tamponi, siamo in grado di arrivare con le strutture pubbliche a 4-5 mila tamponi al giorno. Ad oggi la facoltà di lavorare i tamponi è riservata alle strutture pubbliche perché i tamponi molecolari sono l'unico test affidabile. Abbiamo aperto ai privati la possibilità di fare test sierologici, i privati possono farli tranquillamente. Ovviamente i test sierologici come quelli che facciamo ad Ariano servono a darci una fotografia del passato, cioè ci dicono quanti sono i nostri concittadini che sono entrati in contatto con il virus, che sono stati contagiati un anno fa, sei mesi fa, due mesi fa, ovviamente per l'attualità servono poi i tamponi normali. Ma intanto i test sierologici ci possono consentire di sapere chi è stato contagiato, chi ha maturato gli anticorpi. Quindi per i privati abbiamo una prima apertura per i test sierologici. Per quanto riguarda i tamponi sono ancora riservati alle strutture pubbliche. Ma noi ci siamo premuniti, abbiamo selezionato con una manifestazione di interessi anche una serie di laboratori che sono in grado di lavorare anche i tamponi nel caso dovesse essere necessario. Ad oggi in nessuna parte d'Italia i tamponi vengono fatti da strutture private, in nessuna parte. E d'altra parte il Ministero della Salute riserva questi controlli alla parte pubblica perché sono controlli delicati, sono gli unici affidabili e non possono essere lasciati alla libera fantasia di ognuno. Stiamo dunque procedendo così. Abbiamo una situazione sotto controllo, dobbiamo fare di tutto perché non perdiamo il controllo sulla società campana. Ricordo due cose ai nostri concittadini. Non dimenticatevi neanche per un istante che siamo la regione più difficile dal punto di vista della densità abitativa. Se perdiamo il controllo in Campania ci avviamo verso un'ecatombe. e mi fermo qui per chiedere a tutti i nostri concittadini di avere il doppio di prudenza e di senso di responsabilità. Ne approfitto ovviamente per ripetere l'appello all'uso della mascherina e della distanza sociale. Voglio fare i miei complimenti alla Polizia Municipale di Salerno che ha fermato sul lungomare di Salerno due signore venute da un comune della provincia a Salerno senza mascherina che non solo hanno dato prova di cafoneria e di inciviltà ma pretendevano addirittura di avere ragione. ma sono cose da pazzi che si sono rifiutate di dare i documenti d'identità che si sono messe ad imprecare contro le vigilesse che facevano nient'altro che il proprio dovere a tutela della salute dei bambini delle mamme degli anziani. Mi auguro ovviamente che queste due cafone siano denunciate e che siano chiamate a pagare le sanzioni e a pagare anche sul piano penale insieme con altri signori che hanno inveito contro agenti di Polizia Municipale che facevano nient'altro che il proprio dovere. Mi auguro che il proprio dovere lo facciano tutti, tutti gli agenti delle Polizie Municipali, tutti gli agenti delle forze dell'ordine. Tutti gli agenti delle forze dell'ordine. Perché il dovere di tutelare la salute delle nostre famiglie e dei nostri congiunti è un dovere che hanno tutti quanti, nessuno escluso. Io non mi illudo di controllare il mille per mille, ma se facciamo un minimo di attività di contenimento riusciamo a tenere la situazione sotto controllo, almeno questo. È chiaro che se ognuno gira la testa all'altra parte noi avremo situazioni pericolose nelle prossime settimane. Quando passerà questo mese caldo, questi due mesi caldi, noi avremo di nuovo situazioni pericolose. Ieri non abbiamo avuto nessun decesso in Campania. Credo sia la quinta giornata che non c'è nessuna persona deceduta in Campania per coronavirus. Non abbiamo fatto pubblicità nei mesi scorsi, ma è capitato anche questo. Ripeto, siamo riusciti ad avere in Campania ospedali sicuri, stiamo facendo i tamponi, stiamo completando a tutto il personale sanitario. Nessuno vada fuori nella Campania a curarsi. Qui ci sono prestazioni di eccellenza e si sta sicuri negli ospedali, da altre parti non lo sono. La fase 2 per quanto riguarda il piano economico sociale della Regione Campania. Anche da questo punto di vista possiamo essere orgogliosi perché un piano economico sociale di questo importo quasi un miliardo di euro e con questi tempi di realizzazione i tempi sono decisivi perché quando le istituzioni, il mondo politico fa i programmi, abbiamo deciso, faremo, diremo, il cittadino misura questi programmi e il loro valore dalla concretizzazione che poi hanno questi progetti. se fai i piani e i soldi non mi arrivano, abbiamo fatto poesie. Abbiamo approvato tre settimane fa il piano economico sociale e ad oggi il risultato è questo. Noi abbiamo già fatto i mandati di pagamento a 86 mila piccoli imprenditori. I richiedenti sono 104 mila, entro lunedì e martedì avremo fatto i mandati di pagamento a tutti quanti. In una settimana abbiamo fatto arrivare i soldi alle piccole imprese. Ai professionisti e agli autonomi sono 76 mila, abbiamo pagato già la metà, l'altra metà si completa entro martedì, mercoledì della settimana prossima. Voglio ringraziare i nostri uffici, un ringraziamento particolare ad una nostra dirigente, la dottoressa Somma che sta facendo un lavoro eccezionale di raccordo anche con l'Inps per il nostro piano economico sociale. Credo che in queste ore firmiamo finalmente il protocollo d'intesa con l'Inps per l'erogazione delle pensioni al minimo fino a 1000 euro per i mesi di maggio e di giugno. È stato un lavoro complesso. Credo che siamo arrivati in conclusione. Mentre sto parlando dovremmo aver firmato, firmiamo a minuti il protocollo intesa. La Regione Campania ha fatto una cosa di cui essere tutti quanti noi orgogliosi. Sapete che abbiamo in Italia milioni di pensionati al minimo. L'Italia non è un paese civile, un paese che si consente di avere pensioni di 450 euro al mese. Abbiamo deciso per questo motivo di portarle a 1000 euro. Lo faremo per due mesi, queste le nostre possibilità. Ma fare arrivare 1000 euro a un anziano al giro di due mesi credo sia una cosa importante. Anche dal punto di vista ideale, oltre che dal punto di vista sociale. Ricordo a tutti quanti che a volte una settimana di ritardo nel far arrivare le risorse ai cittadini può significare che vengono fuori altre 100 persone che vanno sotto usura a volte per spese mediche essenziali o per piccole cose per vivere. Questo è il motivo per cui abbiamo preso questa decisione. Da oggi, sempre per il piano economico-sociale, per quanto riguarda i professionisti noi aspettiamo i dati che devono provenire dalle casse di previdenza dei vari ordini, quindi sollecito queste casse a muoversi. E' anche ridicolo che siamo pronti noi a fare i mandati di pagamento, poi ci fermiamo perché le casse dormono in piedi. Per quanto riguarda l'agricoltura da oggi, sono pubblicate sul sito della Regione le istruzioni per partecipare al bando. Le domande devono essere inoltrate a partire da mercoledì 20 maggio. Le domande per avere il contributo per le aziende agricole, le aziende della pesca e dell'acquacoltura, le aziende dei florovivaisti e della filiera bufalina. Per gli studenti universitari, nel pomeriggio di lunedì 18 apriamo la piattaforma presso la Disurc per le domande per un bonus da 250 euro. Stiamo definendo il protocollo con l'Inps anche per i lavoratori stagionali del turismo. Sapete che abbiamo deciso di dare per quattro mesi un'integrazione di 300 euro per gli stagionali del turismo. Sono in corso i bandi per i contributi alloggiativi. Abbiamo dato risorse ai comuni, impegneremo anche risorse dirette di bilancio, sempre tramite i comuni. Abbiamo mandato all'Inps tutti i dati necessari per la cassa integrazione in deroga, quindi noi non c'entriamo nulla se i soldi non arrivano. Poi veniamo alle cose più ravvicinate. Che cosa succede lunedì? Allora, premesso che solo oggi pare che vengano date le linee guida del governo per le attività economiche di vario tipo, fino ad oggi abbiamo avuto soltanto le linee guida dell'INAIL, che non sono però linee che provengono dal governo. Queste linee guida sono incompatibili con l'avvio di alcune attività economiche e quindi la Regione prenderà misure diverse, in modo particolare per quanto riguarda la ristorazione e per quanto riguarda le attività balneari. Ne parleremo nelle prossime ore, ma è evidente che un distanziamento di due metri in piccoli ristoranti significa che questi ristoranti non aprono. voglio dire con grande tranquillità che siccome queste linee guida arrivano oggi, le leggeremo, le valuteremo nella serata di oggi, credo che i ristoratori non avranno neanche il tempo per prepararsi. Io farò in queste ore dei colloqui con le Camere di Commercio, con le associazioni di categoria. Io ritengo che sia necessario aprire tutto giovedì, non lunedì, perché lunedì non ci sarà neanche il tempo per fare la sanificazione dei locali, per prepararsi per misure più aperte che la Regione vuole adottare. Allora, se dovessimo aprire lunedì con le attuali linee guida, il 70% dei ristoranti non potrà aprire. La Regione vuole aprire il 90% dei ristoranti. Noi vogliamo aprire tutto, ma per arrivare a questo risultato dobbiamo approvare delle misure come Regione diverse, che siano meno restrittive. Tanto per capirci, se devi avere una distanza di due metri da tavolo a tavolo, saranno pochi i ristoranti che possono funzionare. Noi vogliamo puntare ad avere una distanza di un metro spalla a spalla dei clienti, ma per avere questa distanza stiamo elaborando un protocollo di sicurezza che prevede la collocazione di pannelli protettivi fra un tavolo e l'altro. Pannelli di plexiglass, pannelli di vetro, pannelli di plastica lavabile e sanificabile. L'importante è che sia materiale non poroso. Lo dico anche perché sono in atti fenomeni speculativi dei produttori di plexiglass. Siamo arrivati a 300 euro al metro quadro. Una vergogna, manteremo la Guardia di Finanza a fare gli accertamenti, ovviamente. Allora il nostro obiettivo è aprire tutto, ma aprire per sempre. Ho la sensazione che se pensiamo di aprire lunedì in queste condizioni avremo i NAS, avremo la Guardia di Finanza che va a fare chiudere i negozi che aprono. Questo non deve succedere. Allora a mio parere è bene prendersi due o tre giorni in più per consentire ai ristoratori di procurarsi i pannelli protettivi, fare la sanificazione ambientale, consentire anche a noi di poter approvare misure meno restrittive che consentano l'apertura praticamente di tutti i ristoranti. Ma dovremo farlo in condizioni di sicurezza e mettendo i ristoratori al riparo da sanzioni amministrative. Perché se apriamo in queste condizioni o non apriamo oppure il primo nucleo dei NAS che arriva a fare i controlli chiude tutto e facciamo la festa del piffero. Allora ne parlerò in queste ore ma la valutazione che mi pare ragionevole da fare è questa. Prendiamoci due o tre giorni di tempo, facciamo in modo che i ristoratori si attrezzino, questo per consentire alla regione di approvare misure più flessibili. E quindi di avere anche un distanziamento di un metro spalla a spalla metteremo credo nelle prossime ore anche un video detto alla task force di produrre un video che raccoglie le prescrizioni dei nostri sanitari. Quindi che garantiscono la sicurezza ma consentono anche a tanti piccoli ristoranti di poter aprire sul serio. Ricordo ancora, aprire tutti ma aprire per sempre, non fare finta. Questo ovviamente consente a noi anche di avere qualche giorno per fare la verifica di quello che è successo dal 4 maggio. Cioè di fare quello che il governo sembra non voler più fare. Cioè capire che cosa è successo dopo due settimane. Cioè il periodo di incubazione del virus e che cosa è successo con le 25.000 persone arrivate in Campania dal nord. Una cosa importante, abbiamo già deciso come regione di avere orari dilatati al massimo. Le attività commerciali quindi possono aprire tutte, tranne questa verifica che vogliamo fare con i ristoranti. È l'unico punto critico. Ma tutte le altre attività commerciali possono aprire tranquillamente e con orari che vanno dalle 7 di mattina alle 23 di sera, alle 11 di sera. Vogliamo dilatare al massimo. Avere la flessibilità di orari, si può aprire nei giorni festivi, si apre quando si vuole. Chi vuole riteniamo doveroso dare la possibilità di, come dire, di riavviare nella maniera più efficace l'attività economica. Partono sulla base di decisioni nazionali le attività che riguardano barbieri, parrucchieri, centri di estetica. Qui bisogna rispettare i parametri nazionali. Pensiamo di riavviare le attività di tennis, le gare senza pubblico che riguardano l'ippica e il motociclismo per l'attività di golf, abbiamo già detto. Per le spiagge avremo incontri nei prossimi giorni per vedere di trovare anche qui delle misure più flessibili. La fascia costiera della Campania non è la fascia costiera dell'Emilia Romagna o del Veneto. In modo particolare la costa della penisola sorrentina, della penisola amalfitana, è chiaro che non è che possa consentirsi di avere un ombrellone ogni 5 metri, tanto vale chiudere l'attività balneare. E quindi anche qui stiamo studiando, lo faremo con attenzione nelle prossime ore, delle misure che consentano una ripresa ragionevole. Ragionevole significa nella sicurezza ma anche con una redditività economica degli operatori, se no è inutile mettere su carta prescrizioni che poi non possono essere rispettate. Stiamo valutando le attività di ginnastica individuale nei pattinodromi, ovviamente per le spiagge abbiamo qualche giorno in più, non tanto tempo in più, ma insomma abbiamo la possibilità di ragionarci ancora con grande tranquillità. Per le seconde case è possibile andare nelle seconde case dentro la regione, quindi i cittadini campani possono andare nella seconda casa in Campania. Per quanto riguarda la mobilità delle persone è consentita in ambito regionale, quindi nell'ambito della Campania si può andare, parlo dei cittadini campani, dovunque. Per quanto riguarda le attività culturali, alcune non possono essere mantenute, penso alla programmazione lirica del Teatro San Carlo, Teatro Verdi. Stiamo cercando di mantenere una serie di altre attività per ottobre, anche con l'uso di nuove tecnologie. Stiamo lavorando per avere una bella iniziativa di solidarietà con Riccardo Muti nei templi di Pestum, credo a ottobre, all'aperto, ci stiamo lavorando, parleremo con il maestro Muti, stiamo pensando a delle iniziative per Ravello, da fare anche, ripeto, con le nuove tecnologie. Credo che ci sarà una bella manifestazione con l'abbagnato. Cercheremo di ricordare l'anniversario della venuta di Wagner a Ravello e così via. Credo che ricorderemo, dedicheremo una di queste iniziative a Ezio Bosso, che è morto. E' scomparso in queste ore un grande artista che abbiamo avuto il piacere di ospitare qui da noi nell'ambito delle manifestazioni promosse dalla Regione la scorsa estate. Credo si sia esibito sia a Pestum sia nella estate da re nella reggia di Caserta. Sono state manifestazioni di grande coinvolgimento da parte di tutti. Rivolgiamo davvero un pensiero a questo grande artista, a questa grande persona, a questo grande combattente della vita che è scomparso. Consentiremo anche le visite ai locali dove celebrare i matrimoni. L'economia dei matrimoni è stata sospesa in questi mesi. Consentiremo agli interessati di andare a visitare perlomeno i luoghi, le ville, nei quali poi celebrare i matrimoni in modo da poter fare la programmazione. Porremo al Governo nazionale un problema, l'insostenibilità per le imprese, di una misura presa dal Governo che è fuori del mondo, cioè la responsabilità penale degli imprenditori nel caso che un dipendente risulti positivo al coronavirus. Siccome i tempi di incubazione del virus sono di 14 giorni, ma chi può dire dove, come e quando è stato preso questo contagio? Provate a immaginare con che stato d'animo può lavorare un piccolo imprenditore, un artigiano, un commerciante che apre il proprio negozio. Ma sono cose veramente dell'altro mondo. Quindi ci batteremo perché la responsabilità penale sia cancellata, perché è del tutto irragionevole. Diamo tutta l'assistenza, ovviamente, ai lavoratori, ma è assurdo immaginare di caricare una responsabilità penale sull'imprenditore. Prenderemo anche altre misure di aiuto alle categorie economiche. Ci è stato posto il problema dei taxi. I taxi non hanno chiuso l'attività economica. Il piano socio-economico della Regione si era concentrato su quelle piccole attività che erano state chiuse. Ma ci sono altre attività che non sono state chiuse, ma che in realtà non hanno fatto niente. Allora, per quanto riguarda i tassisti, abbiamo deciso di fare un ulteriore sforzo economico per dare anche a loro i 2.000 euro come per le piccole imprese. Li daremo ai tassisti, sono 3.000 Napoli e Campania, agli autisti, ai titolari di NCC Auto e Autobus, sono 1.500 in Campania, ai titolari di Scuola Bus, sono 500 fra Napoli e Campania. Parliamo ai piccoli imprenditori o cooperative che gestiscono per esempio il trasporto scolastico, il trasporto dei bambini e gli asili nido, non hanno lavorato. Mi pare ragionevole dare anche a loro una mano. Quindi rivolgo un saluto a queste categorie. Abbiamo fatto un altro miracolo, pure per loro, perché ormai la regione sembra essere diventata, anche nell'immaginario delle persone, una sorta di banca centrale europea. Cari amici, non è così. Noi arriveremo fino a dove possiamo arrivare. Abbiamo fatto il massimo di quello che era umanamente possibile. Quindi abbiamo fatto uno sforzo ulteriore. Ovviamente, quando non ci sono i soldi più, è chiaro che dovremo fermarci. In questo caso abbiamo dato una mano anche a tassisti e anche a questa categoria che obiettivamente è stata fortemente penalizzata. Ovviamente stiamo lavorando in queste ore per i bonus, per le famiglie. Siamo arrivati a 230.000 famiglie che hanno richiesto il bonus. Vorremmo aiutare tutti. Dobbiamo arrivare dove arriviamo. Tenete conto che noi abbiamo un'avvertenza in corso con il Ministero dell'Economia che ha rubato alla Regione Campania 240 milioni di euro di entrate IRPEF che andavano rimborsate alla Regione. Questo per la verità, per la sciatteria del precedente governo regionale che non ha trasmesso i dati e non ha fatto la domanda. E dunque la ragioneria dello Stato senza fare una piega i soldi si rieppresi. Ma sono soldi della Campania. Quindi abbiamo ripreso dopo dieci anni quella avvertenza. Ci devono dare questi 240 milioni di euro che attualmente sono bloccati presso la Banca d'Italia. La Corte dei Conti ha già dato ragione alla Regione Campania. Ho parlato ieri con il Presidente del Consiglio a cui ho raccontato che da un mese stiamo facendo il balletto con il Ministero dell'Economia. Gli ho chiesto di intervenire perché mi pare davvero un atto di irresponsabilità tenere bloccati 240 milioni che non vengono utilizzati né dal Governo nazionale né da quello regionale con la gente che ha problemi a volte drammatici. Mi auguro che il Presidente del Consiglio ci dia buone notizie. Nel frattempo ovviamente noi continuiamo con l'attività ordinaria. L'abbiamo ripresa. Sono ripresi i lavori per quanto riguarda i porti. Abbiamo primi lavori che si concludono a San Giovanni a Piroscario. A Castellabate partono primi lavori. Partono, cominciano lavori anche a Cetara. Stiamo procedendo con le gare di progettazione per gli ospedali nuovi da realizzare. stiamo facendo lavori di manutenzione su richiesta di alcuni albergatori. A quarto, la ripulitura di canali che dovrebbero essere per la verità a carico dei comuni ma siccome non ce la fanno vedremo di fare noi questa ripulitura per evitare sversamenti a mare. Abbiamo alcuni problemi ambientali delicati a cui stiamo lavorando. abbiamo la partenza delle gare in questo caso abbiamo dato la delega all'Invitalia per ripulire le discariche di Calvi Risorta l'ex Pozzi Ginori nel Casertano l'area Bortolotti a Castelvolturno l'area vasta dei Reggi Lagni l'ex Campo Nomadi a Via Cupaperillo a Napoli cioè stiamo facendo lavori importantissimi per tutta l'area nord di Napoli e la provincia di Napoli. Per quanto riguarda l'ambiente noi registriamo anche qui mentre parliamo risultati straordinari per la Campania abbiamo ottenuto un'altra bandiera blu quindi siamo arrivati ad avere cinque bandiere blu per la provincia di Napoli Anacapri, Massa Rubrense, Piano di Sorrento Sorrento, Vico e Quenze e 14 bandiere blu per la provincia di Salerno Cilento Agropoli, Ascea, Casalvelino Castellabate, Capaccio Centola, Marinella, Parinuro Ispani, Monte Corice, Pisciotta Pollica Accianoli, Pioppi Positano, San Mauro, Cilento Sapri, Vibbonati Fra tanti guai la Campania si presenta come una regione che è terza oggi in Italia per le bandiere blu dopo le 32 della Liguria e le 20 della Toscana prepareremo anche una bella campagna di promozione della regione Campania la regione più sicura dal punto di vista sanitario più bella dal punto di vista ambientale o almeno questo fatecevo fare ci sarà nei prossimi giorni un problema che riguarda la fonderia Pisano a Salerno abbiamo chiesto una relazione dettagliata all'Istituto Zopro Filattico la mia sensazione è che non si debba aprire l'attività della fonderia Pisano prima di prendere una decisione di chiusura vogliamo aspettare questa relazione di merito ma ho la sensazione che non ci siano le condizioni per aprire detto con molta chiarezza in ogni caso tuteleremo in maniera rigorosa l'ambiente e la salute dei nostri concittadini allora la fase 2 non manca la confusione non mancano i pericoli era un passaggio in qualche modo inevitabile cerchiamo di vivere questo passaggio con senso di responsabilità se non vogliamo farci male ricordatevi queste preoccupazioni che io vi comunico oggi ricordatevele magari nel mese di ottobre io mi auguro come tutti quanti voi che ci sia un mese di ottobre di grande serenità ma c'è da essere preoccupati allora vedete diceva un grande filosofo ed economista liberale dell'ottocento John Stuart Mill diceva il valore di uno stato sul lungo periodo è rappresentato dal valore degli individui che lo compongono questo vale soprattutto nei periodi di crisi drammatica che può avere un paese nei momenti di guerra nei momenti di epidemia nei momenti di crollo economico il valore di uno stato sul lungo periodo è rappresentato dal valore degli individui che lo compongono il destino delle nostre comunità oggi è totalmente nelle mani dei nostri concittadini possiamo fare tutte le ordinanze che vogliamo se non c'è un grande senso di responsabilità se ognuno di noi non si alza la mattina dicendo a se stesso devo stare attento a non rovinare la vita dei miei figli dei miei cari sarà difficile reggere questa fase 2 rischiamo di avere una fase 3 di nuova chiusura stiamo attenti allora cari concittadini voi avete nelle mani una grandissima responsabilità vi prego di esercitare questa responsabilità nel modo più serio più rigoroso è chiaro che siamo chiamati a fare un sacrificio ma è una cosa sopportabile se vogliamo davvero come dice la regione Campania aprire tutto ma aprire per sempre non per finta abbiamo il dovere di essere fiduciosi per la prova che avete dato di serietà la mia paura è solo quella che un 10% di irresponsabili non rovini il lavoro del 90% delle persone per bene che rispettano le regole e cercano di dare e di darsi una mano per andare avanti per quello che riguarda la regione daremo l'anima faremo tutto quello che è possibile anche di più per garantire la serenità di vita per le nostre famiglie è una ripresa vera e forte di attività economica che ci consenta di superare una crisi che è pesante ma dalla quale dobbiamo uscire con coraggio grazie a tutti e un saluto affettuoso a voi e alle vostre famiglie grazie a tutti grazie a tutti